Qual è il ruolo del dolore nella nostra vita? Chi conosciamo che non prova dolore? È difficile rispondere nessuno, perché ognuno di noi nella nostra vita ha provato almeno una volta quello che definisco il dolore emotivo. Oggi non si parla più di dolore fisico, non ci sono più... almeno nel mondo occidentale, poi in altre parti del mondo ci sono ancora delle guerre dove le persone muoiono, si feriscono fisicamente, ma nella civiltà occidentale dove noi viviamo normalmente non parliamo più di dolori fisici, quindi non è quello a cui faccio riferimento. Quello a cui faccio riferimento è il dolore emotivo. Poco conosciuto, tanto evitato, è molto importante. Perché è molto importante? Perché il dolore è un indicatore stradale. Il dolore, soprattutto quello emotivo, ci fa comprendere che siamo vivi. Così come le emozioni, il dolore è una carica energetica che quando la vita ci tocca attraverso un'esperienza, attraverso un incontro, spesso fastidioso, attraverso un evento, ecco che tocca quel nervo scoperto che va a causarci un dolore emotivo. E quel dolore emotivo va a suscitare dentro di noi delle emozioni negative. Cosa fare con questi dolori? È un lavoro da fare. Offro le consulenze anche per affrontare questo percorso con me. Ma è un lavoro molto importante da fare, perché il dolore è un portale che apre alla conoscenza di sé molto più profonda rispetto a quella dove siamo arrivati fino ad adesso. Grazie.